Andrea Camporese, Presidente Comitato Fiera del Folpo. Parliamo della Fiera 2014, quali le novità di quest'anno? La novità assoluta di quest'anno è lo stand adibito a 90 Espone, un grande padiglione con dentro associazioni, in collaborazione con le associazioni dell'Ascom, con i ferricenti, UPA e col Diretti, dove ci saranno standisti dell'artigianato e del commercio. E poi cosa si può trovare in Sagra? In Sagra ci sono diverse cose da vedere, la cosa principale è anche il villaggio Trentino, in piazza 90, sempre in collaborazione con il Trentino, ci sono 10 casette con prodotti tipici del luogo. Pesca di beneficenza e poi bettole e bettolina? Sì, abbiamo anche la pesca organizzata dalla parrocchia di 90 ed è voluto tutto per la scuola materna. Le bettole sono 6, 6 i bettolini che sono aperti da venerdì sera fino a martedì sera. Come arrivare? Arrivare alla Fiera del Folpo si può lasciare tranquillamente la macchina a casa, si può prendere il battello da Padova, arrivare in barca dove c'è la fermata direttamente al ponte di 90. Oppure ci sono i trenini che collegano la Fiera, uno parte da Camì, uno da zona Stra e uno da zona Ponte di Brenta. E poi questi trenini fanno anche delle fermate lungo il tragitto? Sì, i trenini sono gratuiti e fanno delle fermate dove si possono prendere. Guardate il sito www.sagradelfolpo.it e trovate tutte le indicazioni in merito.